Andrea Canovi, oggi l'arrivo di Sarezzo ti stuzzica? L'arrivo non è proprio adatto alle mie caratteristiche, però devo cercare di recuperare qualche secondo per la classifica generale, quindi proverò a fare qualcosa per cercare di recuperare secondi. Se oggi dovesse andare male, comunque, ci sono le salite di domani? Domani è il circuito un po' più adatto a me, il circuito duro, non ho ancora visto le salite, però mi hanno detto che sono belle toste, cercherò di stare con i migliori, quindi Conti, Garosi e quelli lì, e magari dopo, se arriviamo in volata, penso di essere un po' più veloce. Valerio Conti, come l'hai trovato? Va veramente forte Conti, non pensavo di essere così forte anche il cronometro, e invece ha sorpreso tutti, penso, battendo anche Martinelli, quindi sarà veramente dura battere.